Ciao a tutti, oggi voglio piapare il tartac e il maiale, c'è anche la pelle, guardate, questo maiale io ho fatto dentro l'acqua bollire 30 minuti, ho fatto, e lascia così per freddo, quando il maiale è freddo, noi cominciamo a fittare, fittata dentro l'aglio, io metto l'aglio dentro la pentola a canda, adesso l'olio a canda, mettiamo il maiale dentro, e la pelle, cotta prima, lo sono fatto, e le due, 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 e li sattiamo sono fatto c'è anche la salsa e salsa piccante qui sulla salsa nero metto la salsa di soia con cipolla e aceto e peperoncino buonissimo ciao a tutti ci vediamo al prossimo video buon appetito